Solo alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore, relax. L'idea regalo di questo Natale, una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni, solo alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina.